Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 29 giugno 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. La stanchezza del sabato si sente. Partite rampanti, trasferendo le vostre intuizioni sul piano pratico. Fautore il vostro inquilino Urrano, geniale e tempestivo più che mai. Peccato che il bel gioco duri poco, già sul finire della mattinata la bianca signora si congeda per scivolare in ariete, dove nella vostra dodicesima casa tenta di dare direttive, ma senza successo. Al suo posto lo fa il vostro capo, agli asplutone alto nel cielo in quadratura, qualcuno sostiene che il sabato sia uno scivolo verso il weekend, ma decisamente non è il vostro caso, oggi lavorate per tre, ma non vi lamentate, perché il guadagno se non triplicato è almeno doppio, cosa che male non fa. Uomo di media età inaffidabile, talvolta disonesto e infedelle, con una difficile situazione alle spalle. Sperpero di denaro ed eccessi di spesa. Dal punto di vista economica o si vivono o si stanno per vivere delle difficoltà evidenti. State andando nella direzione sbagliata, in amore franate o potreste franare per gelosia e, soprattutto, perché siete incapaci di affrontare seriamente un dilemma. Non mostrarti diverso da come sei. Una proposta accattivante. Grande passionalità. Esperienze eccitanti. Una riete sarà importante. Oggi potreste sentire una particolare attrazione per una persona impegnata, fate bene i vostri conti. Vi conviene lanciarvi in una nuova avventura? Infatti per la persona in questione solo di questo si tratterebbe. È un po' che vi siete fatti delle convinzioni errate sul conto della persona che amate. Fate attenzione perché rimurginare o dare spazio a queste convinzioni potrebbe farlo soffrire. Potreste soffrire voi. Oggi nati tra le quindici e le diciotto potrebbero ricevere una scortesia da un amico, perdonate presto e cercate di capire che nessuno è perfetto. Siate parsimoniosi e prudenti in tutto oggi, prudenza alla guida di auto e moto e fate attenzione se prendete ascensori o scendete le scale. State sperperando troppo, avrete qualche problema se non rientrate subito. Anche il conto corrente è un disastro e vi conviene risparmiare adesso quanto più è possibile. Attenzione ai colleghi di lavoro o di studio, oggi avete buone probabilità di litigarci. Dovendo discutere intorno alle vostre idee e alle vostre ragioni, fatelo sempre con tatto e sensibilità, oggi è inaguato l'impulsività che potrebbe rovinare molte cose. Un urano generoso congiunto nel vostro segno apre uno scenario dei transiti che si mostra in sostanza positivo quest'oggi, pur con qualche contrarietà che contempla forze planetarie legate all'affermazione dell'Io. È Plutone in Aquario infatti a contrastarvi ancora, ma Saturno e Mercurio si trovano in angolo armonico e vi donano risorse razionali e decisionali molto forti che usate nel gruppo familiare e amicale. Pure Sole, Venere e Nettuno sono schierati dalla vostra parte e offrono grandi capacità creative, estrosità, intelligenza fuori dal comune. Piacevole la mattinata che grazie alla luna in pesci abbracciata a Nettuno immaginifico mette in luce le vostre potenzialità creative. La genialità di Urano si rivela tutta a un tratto e soltanto davanti a chi è davvero in grado di apprezzarla. Non così esaltante il resto della giornata, in tarda mattinata la bianca signora cambia di segno scivolando in ariete, nella vostra dodicesima casa, da dove tira in ballo anche Plutone in positivo allo Zenit, mentre Giove Spendaccione in gemelli vi fa sborsare in acquisti inutili o in prestiti concesse ad amici non così affidabili come vorrebbero farvi credere. Amore ed Eros, i vostri amici si dividono in due categorie, quelli effettivamente inguaiati, bisognosi di aiuto e quelli che furbescamente vanno avanti a spintarelle e aiutini da parte di cuori generosi come il vostro. Almeno finché qualcuno non si premurerà di aprirvi gli occhi, in tal caso il vostro supporto potrebbe disintegrarsi dall'oggi al domani. Malumori con lo zoccolo più anziano e autoritario della famiglia, da quando Urano Libertario viaggia nel vostro segno, ormai sono anni, chi riuscirà a mettervi i piedi in testa e a imporvi un diverso stile di vita deve ancora nascere. Quanto a voi siete belle persone, capaci di sentimenti autentici, ma per i gusti di qualcuno un po' troppo possessivi, ridimensionatevi. Lavoro e denaro. Capo antipatico, nel fine settimana, smanioso di andarsene a Portofino o a Ravello oppure a Cortina d'Ampezzo. Pianta grane di continuo, tacciando tutti quanti di inconcludenza e incompetenza. Forse ancora non lo ha capito che il vostro spartachismo può insorgere in qualsiasi momento, trascinando dietro a voi tutto lo staff. Vero che il caldo vi abbacchia e dopo una settimana così impegnativa avete solo voglia di smammare, tuttavia se vi pungolano nel punto debole diventate iperattivi o addirittura bombaroli. In senso metaforico, si intende. Serata goliardica a costi esorbitanti, una tantum ve la potete permettere, purché non diventi un'abitudine. Guadagni più che discreti per chi è improprio, ma prima di diventare un impresario o mettere su un'attività redditizia per conto vostro ne avete ancora da pedalare. E allora gambe in spalla. Benessere. Nervosi, un po' per natura, un po' perché qualcuno ci si mette d'impegno per farvi vedere rosso. Se non esplodete quest'oggi è solo perché il caldo vi toglie le forze e la stanchezza vi fa decidere razionalmente di stare calmi, tanto a rimetterci sareste soltanto voi, soprattutto in salute. Per rimettervi in sesto avete bisogno di una cena leggera ma nutriente. L'estate reclama più vitamine e sali minerali, dunque verdura e frutta in abbondanza. Fesse per voi la macelleria potrebbe anche chiudere, in compenso l'ortofrutta diventerà un ababbo. Denaro. Con urano nel vostro avrete l'occasione, unica, di vedere dove è la vostra vera fortuna, dove veramente avrete l'opportunità di essere voi stessi e di trovare consensi e un eventuale successo. Per lei, sempre ghiottone voi, specie quando uscite a cena e così dopo mangiato vi coglie l'abbiocco. Altro che notte brava, tutta a baci e carezze, piuttosto sbadigli. Per lui, ambiziosi, quando si tratta di acquisti volete sempre il meglio, ma il meglio costa, ecco spiegato il mistero per cui pur guadagnando benone siete sempre in bolletta. Colore delle emozioni, rosso mattone. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 9, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.